Turismo e affitti, il Veneto già dal 2019 ha corso e ripari, apprendo la strada di fatto ad un sistema di controlli che potrebbe far scuola anche a livello nazionale. Da una parte la regione più turistica d'Italia che nelle scorse settimane è tornata a registrare weekend da tutto esaurito, dall'altra un alto tentativo di frode a danno delle strutture ricettive. Obiettivo della legge infatti è arginare il mercato parallelo che leda al turismo e alla promozione del Veneto. La legge regionale prevede proprio l'obbligo di qualsiasi struttura extraalberghiera, in particolare i bed and breakfast che sono quelli diciamo sotto la lente di ingrandimento in questo periodo, a dover comunicare prima dell'apertura la volontà di aprire una struttura ricettiva, viene assegnato loro un codice, questo codice viene esposto fisicamente all'entrata del bed and breakfast e poi deve essere pubblicato in ogni portale online laddove si voglia ovviamente mettere a disposizione le proprie camere nei siti opportuni. Ricettività dunque come uno degli elementi distintivi dell'offerta turistica Veneta. Questo facilita i controlli da parte della Polizia Municipale perché la Polizia Municipale andando a visionare il nostro portale vede quali sono le strutture che hanno il codice e ovviamente può fare un controllo veloce, matematico sia sui portali sia anche a livello fisico controllando l'esposizione all'esterno di questo codice, all'esterno degli appartamenti. Una regolamentazione indispensabile quindi per tutto il comparto turistico. Così facendo noi siamo riusciti ovviamente per merito grazie alla Guardia di Finanza e anche le polizie municipali sul territorio che sono effettivamente coloro che effettuano i controlli perché la regione non ha polizia regionale, siamo riusciti a scoprire molti siti abusivi.